Il Comune di Campli ha presentato il Capodanno Farnese 2015. Non sarà un unico evento, ma una tre giorni, dal 31 dicembre al 2 gennaio, per salutare l'anno vecchio e l'arrivo del 2015, tutti riuniti nella piazza municipale, appositamente allestita con tenso struttura riscaldata. La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco Città di Campli, l'associazione Commercianti Campli Futura, Campli Basket ed altre associazioni locali. Hanno voluto questi tre giorni per movimentare durante le festività natalizie il centro storico e noi siamo ben felici di promuovere questa iniziativa. Inizieremo con il Capodanno, sarà allestita in piazza una tendo struttura riscaldata con cenone a buffet, tutto organizzato dal gazebo di Giulianova. Ci sarà musica dal vivo durante la serata con un gruppo teramano che sono i Sosta Vietata. Poi finiremo fino al mattino con il DJ. Il primo gennaio ci sarà una tombolata per i locali e la sera proseguiremo con il settimo torneo di Cucù, che è un gioco tipico popolare natalizio-camplese. Chiuderemo le festività il 2 gennaio con un gruppo musicale di Alba Adriatica, che sono gli Aura. Un Vittorio e il Fenomeno sarà ospite della serata, che è molto vicino a Campli e ai Camplesi. Cucinerà un ristorante camplese, l'unico ristorante che è rimasto nel centro storico di Campli, che è il Tunnel. Grazie.